9 persone di età compresa tra i 30 e i 73 anni sono state denunciate dai carabinieri di Cefaru per reati in materia ambientale. I militari hanno accertato che in un cantiere di le incontrata a Calura erano in corso interventi ed edilizi in muratura in totale assenza dei necessari titoli autorizzativi su un'area demaniale e marittima sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici. Nello specifico è stata rilevata l'edificazione di circa 850 metri quadri di terrazzamento in cemento e la costruzione di piccoli fabbricati in muratura a livello del mare a totale copertura delle rocce affioranti la superficie acquea. I reati contestati sono esecuzione di opere di recinzione in zona tutelata dal vincolo paesaggistico senza la preventiva autorizzazione della soprintendenza e beni culturali e ambientali, inizio dei lavori edili in località sismica senza la preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio del Genio Civile testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia esecuzione di opere ricadenti a distanza inferiore di 150 metri alla battigia del mare distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Al committente dei lavori sono state anche elevate contestazioni amministrative in materia di sicurezza sui luoghi di lavori per un ammontare complessivo di 20.000 euro. Il cantiere che non era visibile se non dal tratto di costa antistante è stato sottoposto a sequestro preventivo.